Bene, buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere venuta a questo convegno che avviamo ora. Ma di che corpo parliamo? I saperi incorporati nell'educazione e nella cura. Il titolo in forma di domanda, provocatoria, volutamente provocatoria, anche un po' ruvida, che abbiamo dato a questo convegno, nasce dal desiderio e dalla necessità di riflettere, naturalmente, su una dimensione, che è quella del corpo nell'educazione e nella cura. Una dimensione che oggi è sempre più al centro dei discorsi e delle pratiche. Questo convegno in realtà nasce dieci anni fa, nasce in questo Ateneo, anche grazie alla sensibilità di coloro che si sono succeduti nei ruoli dirigenziali, e nasce in stretta connessione con l'insegnamento di pedagogia del corpo, il primo in Italia, con questa denominazione, che oggi promuove questa giornata. E questo convegno nasce anche grazie all'impegno dei collaboratori e delle collaboratrici storiche dell'insegnamento, che consentitemi di salutare, di ringraziare, Tiziana Andrenelli, Ferruccio Cartacci, Nicoletta Ferri, Fabio Maccioni, Luca Pessina. Devo naturalmente anche ringraziare la Facoltà di Scienze e della Formazione, che ci ospita e che ha dato il patrocinio alla giornata. Unitamente alla NUPI, sigla che si riferisce all'Associazione Nazionale Unitaria degli Psicomotricisti Italiani, e soprattutto a Filo, la Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche di Milano. È giusto infatti ricordare che questo convegno fa parte di un ciclo di quattro, promosso appunto da Filo, ciclo che abbiamo denominato con un gioco semantico il corpo dell'anima, e che mi pare particolarmente adatto per i lavori che stiamo avviando. Volevo anche ricordare che il ciclo Il Corpo dell'Anima si concluderà il 9 giugno, sempre qui all'Università di Milano Bicaoca in Aula Massa, con l'ultimo convegno dal titolo La Dea Impensata, Fine del Patriarcato e Immaginario Femminile. L'insegnamento di Pedagogia del Corpo. L'insegnamento di Pedagogia del Corpo si sforza di comporre in una sintesi unitaria la molteplicità di teorie ed esperienze a mediazione corporea. Quelle più propriamente educative, ma anche quelle di matrice espressiva artistica, salutistica e medica, nonché di tradizioni sapienzali anche lontane, molto lontane nello spazio e nel tempo. Questo tentativo di composizione che la pedagogia del corpo si assume è finalizzata a indicare un modo diverso, incorporato, da lì anche il senso del sottotitolo del convegno, un modo incorporato di affrontare le relazioni educative di cura. La pedagogia del corpo, anche se a molti piacerebbe intenderla così, non è una disciplina specialistica, chiusa in una palestra o in luoghi ameni. Vuole essere un territorio aperto, costitutivamente trasversale, disponibile al confronto e alla contaminazione. La parola contaminazione è una parola a me molto cara, contaminazione di saperi, di saperi sensibili, la disponibilità una autentica messa in gioco dei soggetti e, vorrei sottolinearlo, il superamento gerarchico dei linguaggi all'interno della relazione educativa. Si educa con la parola, certo, ma non si educa solo con la parola. Lo testimonio è il fatto, per limitarsi a questo luogo, che ogni anno, per i nostri studenti, noi organizziamo mille ore di laboratori corporei. Mille ore di laboratori corporei che fanno parte integrante del loro percorso formativo. Si tratta di laboratori corporei esperienziali per piccoli gruppi, quindi non laboratori nominali, ma laboratori a tutti gli effetti, che spaziano dalla psicomotricità ai diversi metodi di espressione, consapevolezza corporea, al teatro, all'uso della voce, alla danza, al gioco, sportivo, allo yoga. Non a caso in questa università noi abbiamo predisposto un'aula corporea. Credo siamo fra le poche università a disporre di questo spazio, che è uno spazio dal grande valore simbolico, oltre che concreto e materiale, perché è il luogo dove si svolgono molte delle attività che ho appena ricordato. Ha un grande valore perché l'approccio corporeo alla conoscenza, alla relazione, per noi pedagogisti del corpo, chiede infatti di rompere, gioco forza, alcuni schemi accademici, soprattutto per quanto concerne la tradizionale forma della lezione frontale, o dorsale, come qualcuna simpaticamente ribattezzata, pensando a coloro che scrivono spalle agli studenti, alla lavagna lunghe e importanti formule. È importante rompere questi schemi, e anche scoprire, ad esempio, che all'università è possibile imparare muovendosi, vivendo diversamente le aule, sedendosi sul pavimento, cosa che del resto molte delle professioni a cui noi prepariamo i nostri studenti saranno costretti, chiamati a fare. Sdraiarsi, rilassarsi, camminare, danzare scalzi. La questione dell'organizzazione del setting è centrale nella pedagogia del corpo, e la preparazione delle figure universitarie, delle figure professionali in campo educativo, che ormai è interamente passata all'università, avviene, ahimè, ancora dentro un contesto culturale e strutturale ancora poco sensibile alla molteplicità dei linguaggi, a una didattica capace di accogliere, già solo nella predisposizione degli spazi e dei tempi, prima ancora che dei programmi e dei contenuti, una domanda di formazione corporea capace di mettere in gioco concretamente le emozioni e i sensi. Quindi noi avremmo potuto oggi scegliere di mettere al centro, come abbiamo fatto in passato, e certamente faremo ancora in futuro, esperienze concrete di lavoro corporeo. Avremmo potuto parlare e proporre esperienze di corpo e teatro, corpo e musica, corpo e danza, e così via. Io ho ricevuto diverse mail da colleghe, colleghi, amici, amiche che mi chiedevano come mai non ci fosse questo o quello compreso in questo convegno. Noi oggi abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo deciso di parlare di educazione e di cura attraverso il corpo. Non perché del corpo non si parli, tutt'altro, del corpo oggi forse si parla fin troppo, il corpo è uno dei grandi protagonisti della cultura contemporanea. Ma noi vogliamo capire se proprio il parlare, riferirsi sempre più diffuso al corpo, messo ai diversi contesti, sia un segnale di una nuova e autentica sensibilità formativa o, al contrario, l'ennesimo modo di risolvere, come temiamo, di rimuovere intellettualmente le sue potenzialità espressive e trasformative. Facevo prima riferimento all'importanza della messa in gioco, dell'autentica messa in gioco nella formazione attraverso il corpo dei soggetti, della soggettività, quindi della biograficità nell'ambito della pedagogia del corpo. Non a caso il termine storia compare già in alcuni dei titoli delle relazioni che oggi ascolteremo. Ciò che il corpo racconta sarà sicuramente uno dei fili conduttori della giornata. Ma vedete, un conto è scrivere del corpo, ben altra cosa, tutt'altra cosa, è comprendere come sia possibile parlare dal corpo. Il rischio di limitarsi a parlare del corpo, infatti, è quello di ricondurlo alla ragione della parola, sbarrendone così la possibilità di contattare il suo autentico sentire, un po' come quando ci si illude di educare le emozioni e i sentimenti semplicemente parlandone. Il che non significa, ben inteso, che noi si voglia rinunciare alla parola. La parola è fondamentale, è importante, ma vogliamo chiederci come sia possibile, lo dico con uno slogan molto efficace, dare corpo al pensiero. Perché purtroppo teorizzare, teorizzare senza incorporare, è uno dei grandi limiti del sapere accademico. Dal bambino all'adolescente, fino all'adulto, soprattutto nei passaggi critici che segnano le diverse transizioni da uno di questi periodi all'altro della vita, sul corpo si inscrivono fisicamente e simbolicamente i segni, seppur culturalmente e storicamente diversamente interpretati, che ne determinano le appartenenze. Una cultura corticalizzata come la nostra si trova ormai abituata per esempio a ricorrere al concetto di psicosomatica. Non di rado anche ad abusarne. Qualunque nostro problema che non si riesce a spiegare spesso viene etichettato con questa parola magica. È un problema psicosomatico. Sicuramente ciò trova in molti casi un'ampia e legittima giustificazione. Tutto ciò però deve valere anche in senso inverso. Cioè se la psiche è in grado di condizionare il corpo deve necessariamente essere valido anche il contrario, che il corpo in qualche modo agisce, retroagisce sulla nostra dimensione psichica. Parleremo quindi oggi anche di dimensione somato-psichica per alludere a questa doppia freccia dei rapporti mente-corpo. E io credo che questa inversione, tutt'altro che ininfluente, differenzia per molti versi uno sguardo sensibile al corpo rispetto a quanto siamo abituati a considerare. Cioè, per fare un esempio, di quale umore diventiamo quando abbiamo l'emicrania. Un anziano che per le più svariate ragioni si trova a confrontarsi con un cambiamento rilevante della percezione della propria immagine corporea. Non è poi in una situazione somato-psichica così differente da quella di un bambino che non può dispiegare appieno la propria presenza corporea nel mondo. Le domande sarebbero tante. Provo a evocarne alcune, ben sapendo che chi mi seguirà indirettamente o direttamente avrà occasione di riprenderle. Noi abbiamo o siamo un corpo? La questione è centrale e naturalmente non risolvibile. Potremmo dire, ricordo in tal senso delle parole straordinarie in alcune lezioni del professor Sini, noi siamo dentro questa ambivalenza costitutiva. Andrea Le Breton, un sociologo del corpo ci ricorda che in realtà il corpo non esiste nel senso che il corpo non è mai neutro. Io in questo momento non vedo corpi, vedo donne, uomini per limitarsi a due generi. Dietro ogni soggetto c'è un corpo sessuato che lo racconta e lo qualifica. Un'altra parola chiave è certamente la parola relazione. Il corpo non esiste se non all'interno di una relazione. Il corpo non è un oggetto che possa essere ammirato come una farfalla inchiodata con uno spillo su una bacheca. Il corpo o meglio un gesto, uno sguardo, un urlo, un sorriso, un cenno di saluto, il mio imbarazzo di questo momento, l'espressione di un volto svelano sempre i loro possibili significati solo come espressioni dirette ad un altro, a un sistema o come risposta a quest'ultimo. Permettetemi però anche di dire che perché i saperi siano incorporati io credo che hanno bisogno di un corpo che non sia solo simbolico ma anche agito, fatto vivere nella relazione. esiste cioè una materialità, una biologicità del corpo con la quale noi nella nostra vita ci misuriamo costantemente, attraverso la quale ci formiamo, impariamo a discernere le emozioni e ad articolarle in sentimenti. Questa dimensione, questa dimensione biologica, materiale, ci tocca profondamente, ci tocca anche come educatori, come formatori, come professionisti della cura. Questa dimensione si intreccia con i nostri saperi. il corpo è la nostra potenzialità ma anche la consapevolezza del nostro limite. Io con la mia mente posso pensare di scalare l'everest, altra cosa è andarci con le mie gambe. Allora, il corpo è anche memoria, dicevo, quel che noi siamo è il prodotto, quel che noi siamo come Homo sapiens sapiens, è il prodotto di una lunga storia, di una lunga evoluzione. Grazie. Grazie. Grazie.